Mister, adesso abbiamo la possibilità di rispondere ad alcune domande da parte dei tifosi raccolte grazie a socios.com Ciao Adriano, Bruno sta giocando molto bene, penso che questo modo è un buon modo per Bruno. Bruno è un giocatore molto offensivo, forte negli ultimi 30 metri, poi arriva più nelle zone di gol, di finalizzazione e penso che questo è un modo buono per Bruno che sta giocando molto bene, ha giocato sempre alla destra. L'ultima partita abbiamo bisogno di fare giocare Bruno nella sinistra, ha giocato bene, sono molto contento con Bruno in questo momento. Ciao, in questo momento stiamo preparando solo il campionato. Dobbiamo pensare che la prima partita è con Sevilla che ha vinto negli ultimi anni tante volte l'Europa Liga, una squadra fortissima con un grande allenatore. ma quando iniziamo a pensare alla partita di Sevilla dobbiamo capire che è una partita e le altre anche sono partite o se vinci o se muore o se fuori. Io credo che questa questione emozionale può essere importante in questo momento nell'Europa Liga. Il calcio italiano è un calcio diverso, sono imparato molto, per me quello che è importante capire è che tutte le squadre possono giocare in un modo diverso, domani in un altro modo diverso, durante la partita cambia, tutte le squadre preparano bene strategicamente le partite e sono tutte le squadre che vogliono giocare. per me quello che è importante capire è che tutte le partite sono storie diverse, ogni partita ha una storia diversa. E' importante preparare bene la squadra strategicamente per poter giocare contro una squadra che ieri ha giocato ma che oggi gioca in un modo diverso. e questo è importante capire per me e questo è importante capire per me. Grazie a tutti.